Bentornati alla seconda parte della undicesima puntata di Zebra in Metta, la trasmissione settimanale sulle Zebra Rugby. Prossimo appuntamento ufficiale, domenica 24 febbraio alle 15 allo Stadio 25 Aprile di Parma, quando le Zebra ospiteranno i Galesi Dragons, nel sedicesimo turno della Rabo Direct Pro 12. Per chi non riuscisse ad essere in nostra compagnia allo Stadio, ricordo che la gara sarà trasmessa in differita alle 17 da Sport Italia 2. Abbiamo qui ospite in questa undicesima puntata l'assessore Marani allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Parma. Per cui, assessore, quanto è importante per una squadra nuova di livello come le Zebra avere uno stretto rapporto con l'amministrazione e questo rapporto che si è formalizzato qualche mese fa e dunque ci parli un po' anche della cittadella del rugby di Parma che ospita gli allenamenti e le gare di questi ragazzi. Devo dire, essendo la mia prima esperienza amministrativa, non saprei dire in generale quanto è importante. Di sicuro è stato importante in questo caso, perché grazie proprio al dialogo e alla collaborazione con la federazione e con la squadra si sta cercando piano piano di arrivare a configurare tutta la cittadella del rugby, tutte le identità presenti nella cittadella del rugby nel rispetto e nella massima collaborazione di tutte le figure che sono presenti sia in loco che dalla parte invece dell'amministrazione che lavorano e che si danno da fare perché tutto venga fatto nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il tema del pubblico che dicevamo prima, certo di sicuro non aiuta anche avere un contesto come questo che in questa fase è ancora un po' un cantiere, di sicuro avere un contesto un po' più ospitale, trasformare il centro in un vero e proprio giardino dello sport, ecco, credo che aiuterà molto l'afflusso del pubblico anche perché deve diventare un momento gradevole per le famiglie e per la città tutta. Per cui se si tende tutti a quell'obiettivo, io credo che continuando a collaborare come stiamo facendo e avendo l'appoggio delle realtà che sono già presenti all'interno della cittadella, secondo me riusciremo a avere l'obiettivo di lavorare bene insieme, di tenere qua questa squadra che è importante per questa città, di essere un esempio di buona collaborazione anche tra amministrazione e federazione e di poter portare un po' più di pubblico. Mentre invece Artemio Carra, presidente del CUS Brescia e vicepresidente del CUSI nazionale, il nostro sport è il rugby, nasce nell'università nel 1823, grazie al mitico gesto di William Webb Ellis, diventando poi uno sport professionistico molti anni dopo. Qual è, grazie alla sua esperienza nell'università, l'aspetto che può essere utile al nostro sport per svilupparsi? È vero, il rugby è uno sport universitario. Vi posso dire che a livello nazionale le due federazioni nelle quali ci sono maggiormente tesserati e soprattutto affiliazioni presso le federazioni, sono proprio l'Atletica Leggera e il rugby. Sono le due federazioni dove noi siamo più presenti in assoluto. Ogni CUS ovviamente sviluppa le proprie attitudini e le attività sportive a livello locale. D'altra parte il rugby, lei ha detto giusto, è uno sport che per anni è rimasto probabilmente anche uno sport a livello universitario e si è sviluppato anche prima della guerra mondiale, ma anche subito dopo nell'ambito universitario. Forse per questo non è diffusissimo anche negli altri utenti a livello di cittadini. Brescia, posso dire effettivamente noi abbiamo una squadra, però ci sono alcune squadre che sono anche meglio di Brescia. Padova in Serie A, CUS Padova in Serie A, CUS Torino in Serie A, credo ci siano CUS Genova, CUS Ferrara, tutti CUS che hanno, CUS Roma, tutti CUS che hanno un'enorme, una grandissima tradizione nell'ambito dello sport del rugby. E anche la Federazione Italiana Rugby ha sposato la filosofia di studio e sport grazie alle accademie di quella Ivan Francescato di Tierregna e anche le accademie zonali, per cui quale può essere il modello giusto di sviluppo di sport e università insieme? Magari questo, magari quello dei CUS che rappresenta dove lo sport è più una scelta volontaria o magari quella dei college americani dove lo sport fa parte proprio del piano di studi? Allora, credo che l'attività che si svolge nelle università americane di tipo professionistico o quasi anche degli studenti che svolgono un'attività quasi professionistica sia molto distante ancora dalla nostra realtà. Noi presso le università abbiamo sviluppato in tantissime realtà, in tantissime sedi universitarie l'impiantistica sportiva e stiamo tuttora sviluppando moltissimi impianti dal rugby proprio perché ci vengono richiesti direttamente anche dal territorio. Le università sono aperte al territorio, gli studenti universitari fanno le loro attività diciamo quando finiscono l'attività didattica. Durante la giornata siamo aperti a tutto il territorio, così come a Parma e così anche in tutte le città dove il CUS ha degli impianti da poter usufruire. È chiaro che per noi lo sport è a livello di ettantistico, così come è la federazione a livello di ettantistico, anche se sappiamo bene che se ci limitiamo a parlare di nazionale o di franchigie e di zebbre o di benetton, insomma è uno sport, è un dilettantismo che non serve se fosse vero dilettantismo perché oggi giocare a Rebbe a quei livelli bisogna allenarsi almeno due volte al giorno e quindi bisognerebbe che le università, almeno nei confronti di quei giocatori che frequentano anche le università acquisissero un occhio di riguardo, non dico all'americana, però dando a loro dei benefici di altro genere tipo magari dare dei crediti oppure consentire che magari la frequenza non sia sempre così precisa alle lezioni come qualsiasi altro tipo di studente. Ci si sta lavorando, non è detto che ci si debba arrivare, però ci stiamo lavorando. Ma migliori testimoni sono proprio i giocatori, anche all'interno della Rosa delle Zebbre, di giocatori che comunque si allenano due volte al giorno, come diceva il vicepresidente Carra. Ci sono ragazzi che hanno continuato la loro carriera accademica, che stanno studiando l'università, per cui questo connubio sport-università è vero ed è arrivato fino al più alto livello di club europeo. Come ricordava Victoria, le zebbre si stanno focalizzando sul nuovo appuntamento giocato, che sarà domenica 24 febbraio all'ora 15, lo stadio 25 aprile di Parma. Tito Tebaldi arriva un cliente che si chiama Dragons, la squadra gallese di Baja Newport, all'andata città nero a battesimo il 31 agosto con una sconfitta 37-6, però da quella gara è cambiato tanto. Le zebbre sicuramente sono cresciute, non lo dice la casella vittoria che ancora è a zero, ma lo dicono le prestazioni, gli applausi e gli addetti ai lavori, mentre invece arriva un avversario che nell'ultima gara ha raccolto poco, sabato scorso in casa con i Warriors che noi abbiamo affrontato due settimane fa, ha preso 60 punti e il coach Edwards era molto arrabbiato, il pubblico ha abbandonato anche gli spalti prima, cosa rara da vedersi nei campi anglosassoni. Per cui presentaci questi Dragons, questa sfida, una squadra che tu hai affrontato ben cinque volte, quattro volte con la maglia delle eroni in due stagioni passate e anche nella gara di andata era in campo. Sì, ecco, questo è uno dei punti però focali, non prendere sotto gamba una partita pensando sia più facile delle altre, solo perché appunto ultimamente magari ha fatto qualche risultato brutto, diciamo così. Sicuramente è una squadra che è sempre davanti a noi in classifica, che ha dei punti forti difficili comunque da superare e soprattutto non dobbiamo rischiare di prendere sotto gamba. Una settimana che vede le Zebra senza otto effettivi convocati con le nazionali italiane in questo weekend di sfide Italia-Galles anche a livello nazionale, sette con l'Italia di Brunel e odiete con l'Italia under 20 di scena domani sera a Viterbo. Saranno anche tre, due, scusate, le assenze principali delle galle, secondo Fallettao e Comps terza linea impegnati a Roma all'Olimpico sabato e l'ID8 infortunato da tempo, per cui queste assenze Tito su chi peseranno di più. Nel conto finale, come hai detto tu, probabilmente peseranno più a noi perché perdiamo otto ragazzi contro tre loro. La forza di una squadra, come diciamo anche prima, deve essere anche una rosa completa e quindi che riesce a supplire a qualsiasi mancanza, vuoi per infortuni o vuoi per convocazioni. Stiamo, come hai detto tu, preparando questa gara già da due giorni con già quattro allenamenti in campo, quindi sappiamo che sicuramente è un impegno molto molto importante per noi. Nicola Bellardi, in terza linea c'è battaglia tra giovani come Tec, Cristiano, Ferrarini, Caffini e giocatori di esperienza come Bergamasco, Sole, Vanshkalkic e Cattine. Fortunato che salutiamo. La concorrenza spinge a migliorarsi di più. Qual è il tuo giocatore modello a cui ti ispiri? Sì, diciamo che nel mio ruolo ci sono molti giocatori, anche bravi, quindi ritagliarsi un posto soprattutto da titolare non è così semplice. Però ovviamente lavorando tutti i giorni con costanza, diciamo piano piano arriverò, parlo a livello personale, arriverò ai miei obiettivi, che prima di tutto è quello di sperare di giocare un po' di più, facendo un po' più di esperienza. Per quanto riguarda il mio giocatore ideale, diciamo non è che ce n'è uno in particolare, però guardando alla nazionale italiana, diciamo che Zanni è il giocatore a cui mi ispiro un po' di più a livello tecnico. Salutiamo tutti gli ospiti e diciamo arrivederci a tutti gli sportivi e tifosi delle zebbre. Alla settimana prossima per una nuova puntata di Zebbre in Metta, dove parleremo della gara di domenica e presenteremo la prossima trasferta irlandese di venerdì 1 marzo, quando le zebbre faranno nuovamente visita al Conact in Irlanda. Alla settimana per una nuova puntata di Zebbre in Metta, dove parleremo della gara Alla settimana per un'altra pasta, dove parleremo della gara